Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale In questo breve video voglio mostrarvi come vincere velocemente nelle partite su COD Advanced Warcraft Allora, prima cosa, bisogna iniziare la partita impostando l'assetto di armi pesanti e quindi iniziare a giocare Poi, seconda cosa, bisogna muoversi furtivamente e cercare di killare più velocemente possibile senza farsi, come dire, colpire E poi, per l'appunto, proseguiamo, come state vedendo cercando di nascondersi, eccetera di scorrere un po' la mappa evitare gli scontri dove ci sono troppi avversari quindi uno contro mille cercare sempre un momento più opportuno per entrare nello scontro a fuoco Ora vediamo se ce la facciamo Ecco qua Oh, ragazzi, abbiamo già vinto Vediamo un po' i punti Questo è un replay Ecco qua L'abbiamo vinto senza morire Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo video Ecco qua Ecco qua